Buongiorno a tutti ragazze e ragazze ed eccomi è ritornata in questo nuovo video con una notizia che pare essere tra virgolette certa perché vi spiego, si staggi mormorando sul web che molto probabilmente Jean Yaman potrebbe essere il nuovo inviato dell'isola dei famosi e che la firma al contratto potrebbe essere veramente vicina un gossip che ha fatto ovviamente saltare e impazzire di gioia le fan italiane di Jean Yaman questa notizia ragazzi è uscita ed è stata lanciata proprio dal settimanale Key e si dice che Jean si avvicina come dicevo prima alla firma di questo contratto se fosse davvero così il reality che da un anno ormai non va più in onda e gode di non molti ascolti con Jean Yaman potrebbe superare il botto come sappiamo il nostro amatissimo attore non ha mai nascosto il suo amore per l'Italia lo ha detto anche a C'è posta per te e nell'ultima intervista a Verissimo con Silvia Toffanin e poi non dimentichiamo ragazzi che c'è l'indiscrezione che parla di essere nel cast di un film del regista Hop Zektek spero di averlo detto bene se no mi bacchettate però ancora non sto imparando il turco quindi abbiate pazienza anche se ragazzi non abbiamo una notizia ufficiale il regista Tucco ha reso noto qualche indizio che potrebbe far supporre a una prossima collaborazione proprio con il nostro amato Jean infatti se andate a vedere sul suo profilo Instagram il regista qualche giorno fa ha messo una foto che lo ritrae alla macchina da presa e ha taggato gli attori segno che presto si inizierà a registrare qualche telefilm o qualche film uno di questi attori sono Edoardo Leo, Stefano Alcorsi, Elena Sofia Ricci, Serra Yirmas e tra i tag udite udite potete anche andare a vedere c'era Jean Yaman e oltre al tag il registro a turco lascia qualche indizio con una scritta di una poesia che dice così al finir di ogni buon libro, al finir di ogni giorno e notte sorge un nuovo inizio, la quibrezza soffia da te il tuo respiro si trova in te anche il pianto senza motivo di un bambino e l'inizio di un lontano sorriso in arrivo che sarà un film, che sarà un telefilm, che sarà l'inviato dell'Isola dei Famosi noi lo rivolgiamo in Italia voi che cosa ne pensate? scrivetemelo nei commenti lasciatemi un pollice in su di supporto se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale tappate la campanellina e vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video buona domenica ragazzi buon cambio d'ora da Angela, da tutta la web